Siamo tornati a Musica di Gran Classe dopo aver passato Musica di Gran Classe aver parlato di cinema di Gran Classe con autori di Gran Classe Potrei andare avanti altro che... Capital mi prende domani sicuro Certamente Sotto la macchina Esatto Allora grazie ancora ai nostri ospiti che sono stati con noi Facciamo... continuiamo con una piccolissima parentesi cinematografica prima di salutare Giovanni che tornerà poi martedì prossimo Di che ci parli Giovanni? Allora devo prendere Google Traduttore perché il titolo di questo documentario di questo cineconcerto ibrido ha bisogno di una pronuncia precisa questa stiamo parlando di Oasis Nebworth 1996 Nebworth Nebworth Ah Nebworth È la location dove si è svolto Non è che si capisca proprio benissimo la pronuncia C'è la signora Google Signora Google Con la pronuncia italiana forse è meglio Con Nebworth No In italiano Stiamo parlando di un progetto, di un cinevento Un film che sarà al cinema per tre giorni E probabilmente visto il grandissimo successo resterà ancora per un po' Intanto l'abbiamo visto in anteprima grazie alla Sony che ce l'ha inviato Veramente non è una bagianata, ce l'ha proprio inviato con un piccione viaggiatore E stiamo parlando appunto di Oasis Network 1996 Da quanto dice Liam Gallagher, anzi Noel perché Liam parla poco e quel poco che dice Sono insulti Alfredo No, era Non mi ricordo tantissimo di Network Dei due concetti del 96 a Network Nebworth Però questo film mi ha aiutato molto a ricordare Questo potrebbe essere la recensione di questo film Questo che parla è il cantante Cioè colui che stava davanti a queste 250.000 persone che hanno raccolto e vissuto questo grandissimo campo Questo grandissimo Il campo volo degli Oasis Sì, la Woodstock degli Oasis Però il campo volo degli Oasis potrebbe essere una buona definizione Se Liam diceva che non si ricordava nulla Ma questo film l'ha aiutato a rielaborare, a metabolizzare Noel ha detto che quel concerto era l'apice degli Oasis Cioè gli Oasis al meglio possibile Liam stesso era al massimo della forma fisica e vocale L'unica cosa che a questo punto una persona come il sottoscritto Che ha suonato fino alla noia, vera noia, gli Oasis Perché gli altri compagni di classe non riuscivano a suonare altro Mi chiedo ma per quale motivo l'apice degli Oasis è questo Cioè un bel concerto ma non è un concertoneoneone Forse è questo il motivo per cui Jack Scott ha deciso di rendere ibrido questo film Di agili due ore, anzi un'ora e cinquanta esattamente Ha mischiato le testimonianze dei fan che hanno assalito i centralini Perché appunto siamo in un'epoca pre-internet Quindi non c'era lo swipe up e compri il biglietto C'era il centralino e il negozio fisico per comprare i biglietti Ne sono stati venduti 250.000 per due date Un sabato e una domenica La seconda data addirittura era in diretta su 30 paesi Sì, BBC One Radio Era veramente un evento gigantesco E il pregio di questo documentario è non far sentire soltanto il concerto Anche perché sì, appunto La scaletta raccoglieva i grandi classici Perché se poco a poco non ti piacciono gli Oasis Non vai a vedere un film che si chiama Oasis Però la ciccia magari poteva essere Il godimento di andare a vedere questo concerto Era sentendo il disco I dischi degli Oasis, i primi dischi Il pregio appunto è questa versione ibrida Ci sono tante voci diverse Tante storie diverse Che ripensano a quell'esperienza Raccontano com'è nata E un po' tracciano delle Appunto parlavamo di Walk the Line Tracciano delle linee Da lì fino al presente In cui stanno parlando E magari appunto c'è una storia molto toccante Di una sorella che è andata lì Perché era molto piccola Perché ci sono i commenti dei fan Questo non l'abbiamo detto Cioè i fan sono parte del cast praticamente Di questo film E raccontano il loro modo Insomma di aver vissuto questo concerto L'esperienza L'esperienza C'è appunto la toccantissima testimonianza Di una ragazza che nel 96 Era veramente molto troppo piccola Per prendere da Londra il treno L'autobus o quello che è E andare in mezzo ad altre 125 per data Persone E quindi il fratello ha detto Ti porto io, andiamo insieme E sono andati Il fratello dopo poco è scomparso Quindi quello è stato L'ultimo evento Che hanno vissuto insieme Una giornata dedicata Interamente A loro Ed è stato molto molto interessante Vedere come tutto questo Sfociava e si Incanalava in due Che non capisco Per quale motivo Un concerto così grande Uno con il maglioncino Con i nodi E l'altro con il collo alto Noel e Liam Ma che temperatura c'era Lì sopra Non sudano Piccola parentesi Jack Scott Ovvero il regista Il figlio è Ridley Scott Sembra stupidaggile Però a me sembra Invece interessante Il movimento Com'è non è male Come regista Beh ha ricreato Alcune scene Che venivano raccontate Dai fan Tipo appunto Quando sono andato A prendere di corsa Tipo quei film Con i processi finti Quindi il film Di per sé È un film Medio Il concerto È un concerto Medio Sopra la media La media Di questi due prodotti È un godibile Sono godibili 1 ora e 50 minuti Ovviamente Se non vi piacciono gli oasis Lasciate stare Se vi urta la vita La spocchia di Liam E per non parlare Di quella di Noel Che a differenza Di quella del fratello È molto presente Nel racconto Solo in voce Non c'è Ci sono soltanto Immagini di repertorio E appunto queste Queste coperture Questi piccoli inserti Per sostenere il racconto E la testimonianza Di dei fan Ci sono anche I Le special guest C'è una special guest Molto importante Il chitarrista Degli Stone Roses Che suona Non è uno spoiler Perché è successo nel 96 Quindi No C'è Bonhead La formazione classica E appunto Il 96 Era l'apice Della formazione Degli Oasis Due anni prima Suonavano nelle cantine Due anni dopo Suonavano davanti A 250.000 persone Nel bene o nel male È effettivamente Un concerto memorabile Però Ce li ascoltiamo A questo punto Ce li ascoltiamo Sono sempre gli Oasis Sono sempre gli Oasis Vabbè Vabbè Torniamo nello spazio Champagne Supernova Ci sta Conniamo L'anima Un concerto L'anima Grazie a tutti.